Ben trovati allenatori in un nuovo video sul nostro canale La Casa di Carte come sempre io sono Roberto e io sono Jacopo Oggi è un giorno molto importante perché dopo il video di martedì in cui facevamo vedere cosa avevamo acquistato sul Movie Mania Nerd Store oggi finalmente passiamo all'azione e ci iniziamo a spacchettare che cosa? Fallo vedere un po' il video lassù ci andiamo a spacchettare un bel box della versione 1.0 Relays Special Booster versione 1.0 di Digimon Card Game quindi ragazzi oggi diamo il via a una cosa che onestamente quando abbiamo cominciato a fare video ad aprile pensavamo davvero inimmaginabile però oggi vi portiamo questo video perché siete tantissimi che ci seguite e quindi noi siccome la nostra voglia di collezionare non si ferma soltanto ai Pokémon Eh no, se no dopo ho troppa roba dei Pokémon Esatto, ma a tutto ciò che è bello a tutto ciò che ci piace quindi oggi vogliamo iniziare con voi questo nuovo percorso quindi oggi ufficialmente in vostra compagnia iniziamo a collezionare le carte Digimon quindi box come sempre lo spacchetteremo in vostra compagnia tutto quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi inizieremo con 8 pacchetti e siccome all'interno di ogni box ci sono 24 buste nel giro di 3 video spacchetteremo in vostra compagnia questo box quindi ragazzi adesso prima di cominciare vi ricordo che vi lasciamo in descrizione il link per acquistare se volete anche voi il box dei Digimon naturalmente noi lo acquistiamo come penso ormai sapete benissimo al Movie Mania Nerd Store di Sulmon vi lasciamo il link in descrizione il prezzo vi ricordo è di 95 euro e poi lasciate un iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto seguiteci sui nostri social che trovate in descrizione e se vi piacciono i Digimon lasciate un like anche perché qui lo dico tutti i testimoni se questo video raggiunge almeno 50 like prenotiamo pure la versione 1.5 del box dei Digimon che dici? sì quindi ragazzi mi raccomando cliccate mi piace e commentateci nei video se ci sta guardando anche qualcuno che collezione i Digimon ragazzi anche per i Digimon attiveremo gli scambi perché dobbiamo assolutamente completarlo quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a spacchettare facendo il cambio di telecamera wow allora ragazzi facciamo vedere una cosa importante è l'altra volta diamo qualche informazione perché martedì nel video abbiamo spacchettato le bustine promozionali in cui dentro c'è una carta io ho trovato Agumon vedete qua che insomma noi eravamo tutti gasati e quant'altro ma Jacopo poi ci siamo confrontati con Christian del Movie Mania Nerdstore con la mia fortuna Jacopo ha trovato questo Puppetmon che fra l'altro è del BT2 quindi della seconda espansione non della prima sì e fra l'altro ragazzi abbiamo scoperto che questa è un alternative art sarebbe come una full art esatto è un equivalente delle full art considerate che dei Digimon me lo sono proprio scritto ogni il pool garantito per ogni box ci hanno informato è di almeno due carte rare per intenderci cosa intendiamo noi per rare possono essere le secrets o le alternative che sono praticamente degli artwork alternativi rispetto a quelli delle carte tradizionali io sono veramente fortunato allora abbiamo appena cominciato dei Digimon hai già spacchettato hai già spacchettato un pezzo da 90 esatto con i Puppetmon ho spacchetto bene ora pure con i Digimon mannaggia a te ragazzi allora vi ricordo una cosa importante è il pool cioè da cosa è composta la collezione la collezione è composta da 187 carte in totale di cui 69 comuni 50 non comuni 45 rare 20 super rare e 3 secrets più le alternative e più le alternative no le alternative dovrebbero essere comprese in questo pool spacchettiamo quindi io direi che è il caso di iniziare a spacchettare Jacopo vuoi iniziare ad aprire tu vi ricordo che questo questo box c'è nel senso questa espansione che la mi ricordo sempre la Relays Special Booster versione 1.0 è riconoscibile dalla sigla che vedete qui BT1 ok ragazzi quindi vi lasciamo comunque adesso arriva in sovraimpressione anche il link al video speciale che abbiamo dedicato qualche settimana fa ai pokemon vuoi che intervengo io ok allora intervengo io io 1.0 ora me lo sono imparato a memoria ragazzi la promessa è promessa quindi guardate che noi se arriviamo a 50 like compriamo pure l'espansione nuova giusto la prossima espansione io onestamente cioè i Digimon sono tanto belli i Digimon sono molto belli ragazzi non si vive di solo pokemon aspetta che facciamo vedere qua aspettiamo questo screen attenzione c'è tanta robina dentro che noi non sapevamo wow wow attenzione ragazzi allora questo lo mettiamo qua facciamo vedere un po' che cosa c'è dentro Jacopo allora abbiamo questa di qua dovrebbe essere una promo no questa è una BT2 084 molto bella molto molto bella Jacopo ragazzi vi ricordo inoltre che c'è un'applicazione c'è un pacchetto promo oh quante carte ci sono dentro allora guarda davanti mettilo qua in telecamera non lo so qua 1 2 3 4 5 2 carte per pacche ci sono bene 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 ragazzi allora abbiamo trovato questa Sora Takenohuki fighissima molto bella molto bella che fra l'altro è una carta rara perché c'è la R vedete qua sì ottimo allora vi stavo dicendo ragazzi se volete cominciare a collezionare vi ricordo che vi conviene ci sono due applicazioni importanti una è il Digimon card game tutorial app che vi spiega quelle che sono le regole del gioco che noi voglio che cominciamo a sperimentare perché sembra veramente molto divertente io invece voglio spacchettare adesso spacchettiamo e poi invece per tenere traccia della vostra collezione io vi consiglio il Digimon TGC companion che vi dà la possibilità di praticamente creare delle mancoliste nel caso in cui vogliate scambiare o tenere traccia della vostra collezione vedi se c'è i pacchetti sono tutti uguali o ci sono artwork diverse fai vedere l'art allora fai vedere l'art set per contrario vai vediamo in quanti vediamo vai tira fuori tutte le artwork così vediamo quante sono due tre questa quattro quindi sai che sono quattro fai vedere fai vedere l'art set completo bravissimo bravo 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 mettiti leggermente più in qua perché sennò rimane coperto da noi qua così ecco fatto ragazzi questo è l'art set completo guarda vi mettiti un pochino perfetto così questo è l'art set completo quindi come per i pokemon quattro artwork jacobo che la telecamera completano l'art set quindi bene 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 direi proprio che ci siamo bene allora ragazzi fa detto questo io spacchetterei e allora ma che ti dico inizia a spacchettare questo va vediamo che cosa c'è all'interno di questo special booster il promotion pack lo spacchetto io mi raccomando non perdere le buone avvisi sono difficili è sempre uguale jacobo guarda c'è il solchetto qui tira giù bravissimo ole oh ragazzi vediamo un pochino che cosa c'è in questo pack promozionale che si trova all'interno allora abbiamo trovato che cosa no jacobo troppo lontano guarda ti devi mettere qua oh si perfetto allora che cosa abbiamo trovato abbiamo trovato queste sono promo due promo sono ragazzi un agumon promo poi che cosa abbiamo l'altro fa invece greymon sempre promo bellissimo 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 ragazzi agumon è bellissimo agumon sta diventando per ora il nuovo charizard oppure tipo pikachu eh può essere infatti molto molto bello hanno praticamente un ologra un olograficità particolare ecco vedi che non si vede tanto bene che non si vede molto bene speriamo che in video riescano a farlo avvenire meglio ecco ok ragazzi allora scegli i pacchetti tu intanto allora i pacchetti quanti eh quattro a testa quindi mi raccomando vai uno per me uno per te uno per me poi uno per me poi e un altro per me poi uno per te uno per te uno per me quindi questi sono i tuoi giusto? e uno per te abbiamo visto i stessi artwork ok bene 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 allora cominciamo adesso dai il tuo tieni questo è il tuo togliamo il box spacchetto intanto sì 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 tu spacchetta spacchetta ragazzi allora mi raccomando mettiti qua a farlo non dovrebbe esserci trick perché il oh però quante carte mi sembra 12 carte per pack lo so infatti sono tantissime oh mamma mia che bellezza ragazzi oh allora oh allora mi raccomando ti faccio ti do io allora le ultime due dovrebbero essere le carte rare allora abbiamo un metal grey moon poi un pumpkin moon figo questo Jacopo aspetta però perché c'è il riverbero non si vede niente così bravissimo poi gravity crash bello poi abbiamo dark trimon night ride spider shooter bella questo sì queste sono tutte comuni no questa è una non comune invece bellissima perché c'è la U andiamo avanti poi abbiamo tapirmon Jacopo aspetta però perché c'è il riverbero così mettiti poi abbiamo la rara che è cabersmon e infine un'altra rara che aspetta no dietro dovrebbe esserci l'elenco delle carte se non era infatti ecco quindi all'interno dei però è bella questa sì 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 ci sono tutte le carte della VT1 e la VT2 e la VT3 ottimo 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 ok bella questa rara figa 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 somiglia a me guarda che sì è vero somiglia a te questo è Taikamiha Taikamiha e non riesce a non fare aspetta che facciamo non la possiamo spostare occhio soltanto sono io Taikamiha ok ragazzi il primo pack è andato adesso tocca a me queste ci mancano tutte eh certo allora ragazzi ah no questa VT0 VT01 sì è giusto naturalmente esiste solo in inglese ragazzi ole allora il trick non c'è bisogno che lo facciamo è luminoso quando c'è qualcosa dietro eh sì mi sa di sì non c'è bisogno che facciamo il trick perché lo avete visto sono le ultime due carte sono almeno la rara questa la togliamo perché non ci serve ok allora cominciamo ragazzi bello Dolphomon bella questa mi piace poi abbiamo Frigimon sono tutte belle oppla Repamon queste sono tutte comuni perché ce la c'è poi abbiamo Monodramon Monodramon questa è figa Nova Blast questa non finisce per mona Chummon sì perché poi mi sa che ci sono pure gli allenatori come funziona per Chummon Palmon uh vedo un luccichio Fremon non comune bella questa Slash Angemon pure io però vedo un luccichino oppa scusate abbiamo il Patamon raro e una Secret Leopardmon Leopardmon ragazzi guarda che figata che sono le Secret no super rara super rara scusami SR super rara bellissima ragazzi non capisco però se l'alternative potrebbe essere anche l'alternative perché guarda è come il Puppetmon fighissima ragazzi guardate un po' questo Leopardmon super rara noi dobbiamo capire se però è la versione alternativa oppure no bene 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 andiamo avanti Jacopo tocca a te vado oh mi piace mi piace gli mettiamo una sleeve che dici se la merita ragazzi naturalmente se diciamo qualche boiata capiteci non so ci stiamo avvicinando adesso a questo nuovo gioco di di carte quindi siccome nessuno nasce imparato ve lo sapete meglio di me cerchiamo di consigliateci date qualche consiglio qualche suggerimento anche voi che noi seguiamo tutti in maniera è bello la prima mi raccomando non sbirciare la prima mi piace sempre ok olè ragazzi questo è il terzo pack che tocca a Jacopo aspettate che gli diamo un'altra bella slivotta così non si rovina ok allora questo è carino quindi un pochino più in qua così perfetto guarda aspetta che ti sistemo la mano così vai allora numenon poi abbiamo hornbooster poi abbiamo tusakimon nome strano poi pugmon poi muchomon atomic ray Jacopo aspetta perché così non si vede così devi stare ok poi abbiamo tyrannon bello questo mi piace leopardlion mettiti un pochino più basso allora abbiamo la prima questa è non comune adesso dovrebbe esserci la rara no un common quindi non comune poi abbiamo la prima rara che è raremon e poi abbiamo l'altra rara shield of the just figo 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 ma mi sa che sono più fortunato di te io eh non è vero io l'ho trovata nel video nel video prima nel video prima nel video prima solo un pacchetto era però quindi ragazzi ci stiamo scaldando guarda c'hanno alcune sono diverse dietro perché mi sa che sono vedi tipo allenatori boh non lo so non lo so non lo so non lo so ragazzi dobbiamo informarci anche sul sul gioco di carte collezionabili adesso tocca a me bene 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 ok però non è molto comoda l'apertura essere sinceri eh no però mi piacciono tanto le carte no le carte sono fantastiche però però vedi anche poi viene bene pure per il trick adesso mi viene sempre un nero dietro perché è questo allora questo via ok ragazzi ok ci siamo già è bello allora golden ripper poi abbiamo goralli questo è quello che abbiamo fatto vedere nel video eh sì è bellissimo gorallimon piximon questo non mi viene questo cucuamon bello poi abbiamo ah vedi opzion quindi la carta opzione dovrebbe essere spira sword comune anche questa greymon carta comune anche questa ma tanto anche le comuni sono belle armadillomon growlmon poi abbiamo una bellissima mi zia cioè guarda che figate che sono le bellissima incammon poi abbiamo darkmon darkmon figa incammon ok arriviamo alla prima rara jahamon e infine un'altra ah gumoneo la prima doppia la prima doppia ragazzi no 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 non è la prima doppia perché non è uguale lo so però cioè tutte agumon infatti si però non è doppia vado io dai non capisco perché hanno la stessa numerazione che sia anche questa un'alternative ma non lo so non lo so non lo so andiamo avanti ragazzi bene siamo al quinto pacchetto però non abbiamo mettiamo qua la roba seria quella che ho trovata io scusami eh scusa eh 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 allora non ho attaccato il microfono quindi speriamo bene che si senta l'audio di questo video quindi mi sono scusato ad attaccare il microfono ragazzi vabbè ma voi ci perdonerete ma senti notare delle carte nuove anche se tu hai il nostro tappato ok ragazzi andiamo avanti quindi quinto pacchetto finora abbiamo trovato una una super rara una super rara una secrets voglio Jacopo per favore una secrets una secrets mettiti qua così li vedono tutti allora non so con i Digimon non è che sono tanto bravo dobbiamo ancora imparare allora abbiamo un come si chiama Digimon e se ci togli il dito lo vediamo Goblimon questo mi sa ci abbiamo già doppio poi Smashed Potetos Potetos Tsukaimon Kudamon aspetta così perfetto poi abbiamo bello questo Monzaimon tipo zombie sembra poi abbiamo una carta opzione comune Garurumon questo mi piace molto Jacopo aspetta perché non si vede così perfetto River non ho visto cosa River of Power Kugumon poi abbiamo Monmon aspetta Jacopo così guarda ho visto qualcosa vai ho visto qualcosa pure io un Agumon di nuovo poi Jacopo così non si vede e questo una secrets una secrets con Vedramon Jacopo ha fatto il colpaccio ragazzi Vedramon sono bravo Mizzica ragazzi guardate che secret spettacolare sono bravo Vedramon Vedramon eccolo qua dicevi che spacchettavi sono duro ma bella bravo mi hai subito smentito quindi dobbiamo subito slivare una secrets una secrets oh colpo da 10 lode questo ragazzi una secrets che si va ad aggiungere alla super rara copri la copri la togli le carte va almeno copri la ok ragazzi pacche numero 6 ok Jacopo non è molto molto in grado oggi perché ok sta smontando tutto il nostro set ok il set è l'8 ok ragazzi andiamo avanti mi sa che abbiamo trovato la prima doppia si ma pure Gorillamon allora ragazzi Gorillamon togliamo la carta quella segna qualcosa tieni via perfetto allora Gorillamon poi abbiamo Great Tornado carta opzione Digimon Caesarmon bello questo mi piace questo mi piace poi Kakuwamon questa c'è doppia ragazzi per le doppie dopo ci organizziamo fateci sapere se collezionate guardromon questo mi piace nuclear laser figata anche i nomi sono belli poi MetalGreymon comune poi abbiamo un Boltomon guarda che bella questa una Uncummon cyborg tipo cyborg bello Devimon quello che volevo io Devimon Uncummon poi abbiamo Palmon questo piace a te una rara carica mia guarda che bella perché hanno gli inserti dorati molto belli e infine un'altra rara che è Yokomon che fra l'altro è la numero 1 BT1001 visto sto trovando solo io chi stai trovando solo tu mancano solo due pacchetti e dai dai Jacopo su stupiscici stupiscici da roba io non capisco ragazzi voi che se ne sapete sicuramente più di noi perché alcuni hanno forse che sono le alternative non lo so ci fate sapere perché hanno alcuni il retro diverso mamma mia bene bene questo poi ci spagnizziamo nell'album bene bene mi piace mi piace questo Digimon ragazzi mi sa che anche se non arriviamo a 50 like compriamo il il secondo box dai ragazzi su bene ok ho visto qualcosa mi sembra qualcosa togli il codice vai via questo allora mettiti qui bravissimo oh a primo colpo stavolta sei andato vai Orn Booster opzione bello Tsukaimon poi abbiamo Pagumon tutte doppie Muchomon Muchomon mi piace perché mi piace il nome poi abbiamo Atomic Rake pure queste doppie così mi raccomando Liamon figo ed è una comune questa Volcancodrom bellissima poi abbiamo Lemon però questo è figo poi abbiamo Tapirmon questo ce l'abbiamo pure poi abbiamo la rara la prima rara è Wainamon e poi aspetta poi abbiamo Noncommon abbiamo Taiga e infine una super rara Rusty Tirannomon fighissima fai vedere qua perché se no te la guardi solo tu e loro non la vedono più in qua più in qua più in qua perfetto Jacopo un'altra super rara quindi il bottino di oggi finora è una Secret C2 super rare direi che male non è però pure questa è bella pure e te ne ho fallo vedere perché se no me lo dico è bellissima ok ragazzi andata 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 anche questa Jacopo attento sempre perché se no la telecamera facciamo sboccare chi ci guarda ok ragazzi ultimo pack per oggi ultimo pack per oggi oh vediamo speriamo di essere fortunato perché Jacopo per ora è più fortunato di me è certo strano vero strano vero non è tanto strano non devo fare il trick mi viene sempre da fare il trick allora ragazzi ultimo pack Monodramon Forbidden Temptation ancora Volcano e vabbè è comune poi mi viene male il materiale è strano il materiale è strano sono troppo sottili Digitamamam Garuromon questo mi piace guarda che bello si poi Piximon ancora lui Numenon Ancora lui Numenon Bella questa Brekdramon ce l'abbiamo poi abbiamo Looking Back on the good time questo mi piace poi abbiamo un Petermone bella Poi abbiamo Togamon Questo mi ricorda Spike di Brawl Stars Si è vero Togamon e infine abbiamo Un Ikakumon Raro anche questo ragazzi Bene 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 Comunque allora Una Sigrets Due super rare direi che insomma Che fra l'altro mi sa che una è anche Così Perfetto Queste due le ho trovate io Tu hai trovato solo questo La mia è bella però E' più bella la mia della tua Sigrets Il mio Leopardomon Non è vero a me piace più la mia Allora adesso ragazzi andiamo a chiudere Vi ricordo che martedì sera Sempre alle 18 Uscirà la seconda parte di questo Spacchettamento Vi ricordo che se questo video arriva ai 50 like Ma in realtà anche se non ci arriva Mi sa che compreremo anche il Booster 1.5 Quindi la seconda espansione Digimon Il link in descrizione In descrizione trovate il link Per il Per acquistare il box Sul Movie Mania Nerdstore Di Sulmona Detto questo Noi ragazzi ci vediamo Venerdì o sabato In live Ancora non lo sappiamo È molto più facile Sabato pomeriggio Solo per questa settimana Faremo uno strappo alla regola Quindi vediamo un po' Comunque seguiteci Perché anche sui nostri social Soprattutto su Instagram Perché lo comunicheremo lì Detto questo ragazzi Da Roberto E da Jacopo È tutto Grazie mille ragazzi Ci vediamo in live E poi martedì prossimo Alla seconda parte Dello spacchettamento Ciao 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 Ciao